È in corso una seria crisi diplomatica tra Italia e Francia. Si tratta del primo vero incidente che coinvolge il governo Meloni, che come sapete è in carica da pochissime settimane, e ruota intorno al tema dell'accoglienza dei migranti. Proviamo a ricostruire quello che sta succedendo. Nei giorni scorsi il nuovo governo italiano guidato da Giorgia Meloni ha deciso di negare lo sbarco nei porti italiani ad alcune navi di ONG che avevano soccorso migranti nel Mediterraneo. Allora intanto ricordiamo che secondo gli accordi che l'Italia ha firmato, tra l'altro fu proprio un governo di centrodestra, il governo Berlusconi, a firmare questi patti, quando un'imbarcazione di migranti in difficoltà viene soccorsa in mare deve essere accolta nel porto sicuro più vicino. E capita molto spesso che il porto sicuro più vicino sia proprio un porto italiano. Questi sono i patti che l'Italia ha firmato. A questi accordi recentemente se ne sono aggiunti altri. Visto che questa regola, approvata però anche dall'Italia, ve lo ricordo, rischia però in effetti di scaricare il peso delle migrazioni soltanto sull'Italia, recentemente tra i paesi europei sono stati firmati altri accordi che prevedono che una quota di migranti sbarcati venga poi redistribuita, si dice così, in altri paesi europei. Il governo Meloni quindi ha deciso, non facendo sbarcare queste navi, di sottrarsi a questi patti. Alla fine in realtà, visto che poi effettivamente le regole sono queste, questo rifiuto è durato alcuni giorni, al termine dei quali prima alcune e poi tutte le persone presenti su queste navi sono state fatte sbarcare in Italia. Nel frattempo però, alcuni giorni fa, nel pieno di questo braccio di ferro tra le autorità italiane e le ONG, le navi delle ONG, è sembrato che la Francia si fosse resa disponibile a far sbarcare una di queste navi, la Ocean Viking della ONG SOS Mediterranea, nel porto francese di Tolone. Quello che è successo dopo è ancora parzialmente avvolto dal mistero, perché a questa disponibilità della Francia, alcuni esponenti del governo di centro-destra, a partire da Matteo Salvini, hanno reagito con frasi trionfalistiche, del tipo la Francia si arrende, è finita la pacchia e cose del genere. Passate alcune ore, la stessa premier, Giorgia Meloni, ha rilasciato una dichiarazione nella quale ringraziava la Francia per la disponibilità e quindi sostanzialmente certificava che queste persone sarebbero sbarcate in Francia. Ed è qui che la situazione precipita, perché non si capisce bene se la Francia avesse dichiarato una generica disponibilità e le parole di Meloni le abbiano un po' forzato la mano, oppure se i francesi si siano semplicemente irritati per il fatto che una loro azione distensiva nei confronti dell'Italia venisse presentata come una vittoria dell'Italia e una sconfitta della Francia, fatto sta che dal governo francese sono cominciate a partire dichiarazioni durissime contro il governo italiano e anche azioni diplomatiche per denunciare il mancato rispetto delle regole d'accoglienza da parte dell'Italia e convincere gli altri paesi europei a isolare sostanzialmente l'Italia sottraendosi ai patti di ricollocamento, quei patti appunto per cui le persone che sbarcano in Italia poi possono essere redistribuite tra gli altri paesi. Si tratta di una vera e propria crisi diplomatica di cui la premier Giorgia Meloni si è dichiarata stupefatta, ricordando tra l'altro che quest'anno in Italia sono sbarcati circa 90.000 migranti, secondo gli accordi 8.000 di questi dovevano essere ricollocati nei vari paesi e finora soltanto poche centinaia sono effettivamente stati accolti dagli altri paesi europei. E effettivamente la reazione francese potrebbe sembrare molto sproporzionata, però bisogna tenere conto di una cosa. Innanzitutto ci sono delle regole che possono piacere o meno e ovviamente nel tempo possono anche essere cambiate, ma sono le regole che l'Italia ha firmato. Sono accordi per i quali sono serviti mesi di trattative a cui hanno partecipato tutti gli stati e ripensarci sottraendosi unilateralmente al rispetto di questi patti. Ovviamente per gli altri paesi è un atteggiamento inaccettabile che creerebbe un precedente pericolosissimo, perché a quel punto chiunque potrebbe decidere liberamente e unilateralmente di far cadere qualunque patto sottoscritto prima con gli altri. Tant'è vero che ancora oggi il ministro degli esteri francese ha parlato di rottura del patto di fiducia tra Francia e Italia. E poi c'è un altro aspetto da considerare attentamente e che dal nostro punto di vista evidentemente ci sfugge, ma guardandoci dall'esterno, l'Italia è un paese in cui da poche settimane si è insediato un nuovo governo, molto diverso dal precedente governo di Mario Draghi, ma soprattutto un governo con una chiara identità politica fatto di persone che in tutti questi anni non hanno nascosto la loro vicinanza a personaggi come Orban, per non parlare di Putin, personaggi che in questi anni sono stati messi in maniera importante sotto la lente di ingrandimento degli altri paesi dell'Unione Europea, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei diritti civili e dei diritti umani. Il fatto che, a pochissime settimane dal suo insediamento, il governo Meloni scelga come primo atto di presentarsi agli altri paesi dell'Unione Europea, infrangendo le regole comuni firmate dall'Italia sull'immigrazione, è evidentemente per questi paesi e per la loro opinione pubblica un segnale inquietante, rispetto al quale bisognava dare un messaggio molto chiaro e netto. Bisogna chiedersi se dal punto di vista del governo Meloni e dal punto di vista dell'interesse dell'Italia sia stata una buona idea presentarsi così, subito, rispetto ai partner europei, in un momento in cui tra guerra, crisi energetica, inflazione, PNRR, le alleanze con i paesi vicini e in particolare con la Francia, che è il nostro principale alleato in Europa, andrebbero conservate gelosamente. Nel frattempo stanno succedendo cose molto importanti in Ucraina. Come era stato annunciato dagli stessi russi, le forze russe appunto si sono ritirate dalla città di Kherson, che è la capitale della regione che porta il suo stesso nome nel sud dell'Ucraina. Kherson era in effetti l'unica capitale in mano alle forze russe, nei territori occupati dopo l'invasione del 24 febbraio. E quindi la sua liberazione ha un valore anche simbolico fortissimo. È l'ennesimo segnale che le cose per la Russia in questa guerra non stanno andando bene ormai da parecchi mesi. Le truppe russe non riescono più a avanzare e anzi molti territori sono stati ormai riconquistati dalla controoffensiva ucraina, che lo ricordiamo è sostenuta da massicci invii di armi e di aiuti dai paesi occidentali della Nato, tra cui anche l'Italia. Il ritiro dei russi da Kherson è sembrato addirittura troppo bello per essere vero ad alcuni e gli stessi ucraini, fino all'ultimo non hanno creduto agli annunci russi, sospettando che si trattasse solo di una manovra diversiva per distrarre l'attenzione e attaccare da qualche altra parte. Ora sembra che Kherson sia stata effettivamente liberata, che i russi se ne siano andati, la bandiera ucraina è tornata a sventolare nella piazza principale di Kherson e addirittura le truppe russe, una volta completato il ritiro, hanno distrutto il ponte che collega la città all'altra sponda del fiume Dnipro, un chiaro segnale che non hanno intenzione di tornare indietro, almeno non in tempi brevi. Eppure gli esperti sono divisi rispetto agli effetti che questa nuova sconfitta russa può avere sull'esito della guerra. Da un lato potrebbe trattarsi di un nuovo passo verso la pace per indurre il presidente russo Putin, se non altro, a trattare. Dall'altro però potrebbe anche avere l'effetto contrario, cioè indurre i russi a essere ancora più violenti e spietati nelle aree che controllano anche contro la popolazione inerme. E questo è purtroppo un tipo di atteggiamento che abbiamo visto spesso in questi mesi di guerra. L'ultima notizia di cui voglio parlarvi oggi è una bella notizia, potenzialmente una buona notizia, e riguarda la lotta ai tumori. Si tratta di una nuova tecnologia futuristica sperimentata su 16 pazienti che ha mostrato di dare buoni risultati, buone speranze, nei confronti di forme di cancro ritenute altrimenti incurabili. Lo spiego in maniera grossolana, ma spero nella maniera più comprensibile possibile. Gli scienziati hanno preso delle cellule presenti nel nostro corpo, i linfociti T, che fanno parte del sistema immunitario e hanno il ruolo di pattugliare il nostro corpo alla ricerca di intrusi, e le hanno riprogrammate, trasformate, per riconoscere e distruggere le cellule di questi particolari tipi di tumore. In 5 di questi 11 pazienti, che ripeto non rispondevano a altri tipi di trattamenti, la diffusione del tumore sembra effettivamente essersi fermata. Ovviamente si tratta di una tecnica molto d'avanguardia, molto sperimentale, molto costosa, non ancora testata e utilizzabile, purtroppo, nella generalità dei casi. C'è ancora molta, molta strada da fare. E però, se questo approccio, cioè prendere delle cellule che già esistono nel nostro organismo, e modificarle per attaccare certi tipi di malattie, vi risulta familiare, ecco, non vi sbagliate, perché, anche se in modalità del tutto differenti, è anche il principio che sta alla base dei vaccini a mRNA, quelli che, a quanto pare, ci hanno portato velocemente, con una velocità insperata, fuori dalla pandemia del Covid. Tutto quello che riguarda le manipolazioni genetiche viene sempre raccontato e visto con un po' di sospetto, come se il risultato più probabile fosse quello di creare dei mostri, dei Frankenstein, o dei veleni, pensate alla reazione automatica che ci viene quando sentiamo parlare di OGM, di organismi geneticamente modificati. E invece quello che accade, che sta accadendo, più spesso di quanto raccontiamo, di quanto noi stessi vogliamo ammettere, è che la genetica, in tanti casi, ci salva la vita. Io sono Alessio Balbi, faccio il giornalista, e questa era una puntata sperimentale di Newsbox, un programma in cui vorrei provarvi a spiegare le notizie in maniera semplice e senza dare niente per scontato. Se vi è piaciuta, lasciate un mi piace, seguitemi, e ci vediamo alla prossima puntata.